E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale e sulla nostra macchina con un nuovo video Sulla nostra, in verità è la tua mamma No Oggi per la prima volta andremo al Burger King Drive Non siamo mai stati al Burger King ma neanche al Burger King Drive, quindi prima volta Assieme a noi c'è il nostro cameraman Che non si sa chi è ma anche lei dovrà mangiare Hai dato un indizio Dato un indizio Dovrà mangiare quindi anche lei prenderà qualcosa insomma È una sensazione strana perché non ho mai preso del cibo in macchina Quindi vediamo anche com'è mangiare in macchina e prendere, ordinare il cibo in macchina E vedi di non sporcare la macchina Sì esatto esatto Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo direttamente al Burger King Drive Poi andremo anche al Mac Drive perché sennò questa qua piange tutto il tempo Non è vero E anche al Roadhouse e all'Old Wild West Dobbiamo fare tutte, provare tutte L'Old Wild West è buona Vabbè assaggeremo in altri video Oggi, cos'era? Oggi Burger King Ciao 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 Oggi, come va bene 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 E quanto viene un menù? Volete menù medio o grande? Allora, uno medio, quello medio quanto viene? Il menù medio viene 11,60, quello grande viene 12,40. Ok, allora facciamo tutti e tre medi. Ok, in totale 34, tanto a pochino in casa, ragazzi. Perfetto, grazie. Ragazzi, abbiamo preso il chicken per il cameraman e due alla carne. Che poi ha la carne, cioè anche il pollo ha la carne, però vabbè. No. Vabbè. Abbiamo preso due menù medi per noi due e abbiamo speso 11 euro, perché sennò costava ancora di più. Che coi? Grazie. Ciao, grazie. Allora, allora, il pacco è enorme. Vediamo un po'. Qua sono le patatine, poi qua ci sono le bevande. Ah, e qua sono i panini, molto easy. Cosa volevi? Eh, non so. Vediamo i panini. Questa roba, questo. Il packaging non mi piace tanto, però dai. Ah sì, questo è del pollo, è il pollo. Diamolo al cameraman. Ecco il panino, però fai vedere. Boh. Che schifo. C'è il ketchup? Che schifo il ketchup. No, io volevo quello con la... Franci è colpa tua, che hai detto sì, facciamo quello di nuovo. E che cosa ha? Bacon. Guardate il panino dell'ospite, è tutto... Che buono, andiamo all'assaggio. Mi raccomando, raga, se non avete visto i video su Napoli, andatevi a vederli, perché sono veramente dei capolavori e ci sono impegnati parecchio. E poi è molto interessante, anche dal punto di vista culturale. Ma andiamo avanti col video. Assaggia prima Degni. Magari è buono. Ok, raga, assaggio anch'io, vediamo com'è. Allora, devo dire che sono sorpreso, però. Ragazzi, sono sorpreso. Sto appaduto sto casino, pensavo fosse così così, invece non è male, eh. Assaggiamo le patatine. Forse è un po' meglio. Comunque non sono patatine chissà che, però ci sono aspetti positivi e negativi, però potrebbe andare peggio. Ovviamente Coca-Cola buona, anche troppo troppa, perché sono... Cioè, quasi mezzo litro. Allora ragazzi, 11,50 euro a testa, è tantino. Però c'è da dire che rispetto al McDonald's, non per far paragoni, diciamo solo quello che penso, almeno io, la qualità è un po' migliorata in questo caso. Se non avete visto il video in cui andiamo a assaggiare il Mac, ve lo lasciamo qua sopra. È stata la mia prima volta, tra l'altro. La qualità del pane, della carne, delle patatine, diciamo che ha influito molto. Però comunque il prezzo è troppo alto. Per dire, nella paninoteca, ciò che c'era, se non siete andati a vederla e non l'avete vista, ve la lasciamo qui sopra. In quella paninoteca lì abbiamo pagato 9 euro e abbiamo mangiato un fritto misto, un panino e dell'acqua. Cioè, un menù completo e anzi ancora più abbondante, pagato 9 euro. È di qualità, soprattutto perché è una qualità pazzesca. Quindi rimango sempre dalla mia opinione che è meglio la paninoteca rispetto a questi fast food. Tue considerazioni? Buono, però sì, io resto fedele al mio Big Mac del Mac appunto. Ok. Boh, come voti? Diciamo qualità prezzo un 6,5. Io ho un 7. Abbiamo qua davanti il Old Wild West, quindi probabilmente la prossima tappa sarà l'Old Wild West. Non c'è nient'altro da dire, mi raccomando iscrivetevi al canale, ma soprattutto condividete a più persone possibile il video. Mettete like. Mettete like, che è fondamentale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!